Ciao a tutti, vediamo 6 caratteristiche del segno del Capricorno. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina di Instagram Massimo Torramasch, iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, quali sono 6 caratteristiche del segno del Capricorno? Allora, beh, la prima caratteristica è che sono divertenti, cioè il Capricorno ha ironia. Non sono portati all'estroversione, non sono portati alla socievolezza, ma hanno delle battute ironiche, quindi sanno ironizzare su se stessi e sugli altri. Questa è una caratteristica fondamentale del segno del Capricorno. Ogni buon Capricorno, diciamo, ha dentro di sé una buona dose di ironia. Non sarebbe un Capricorno se non fosse ironico e non sarebbe ironico se non fosse un Capricorno. La seconda caratteristica che hanno è la pazienza. Il Capricorno è un segno paziente. Questa è una virtù che ha, è una virtù comunque che il segno del Capricorno ha, ha anche una resilienza, cioè la capacità di resistere agli urti della vita molto forte, alle spalle solide, regge bene gli urti della vita, rispetto ad altri segni ovviamente, tutto è qualcosa di relativo. Però questa è una caratteristica fondamentale che ha il segno del Capricorno. Altra caratteristica, la terza caratteristica del segno del Capricorno è la lealtà. Il Capricorno fondamentalmente sono leali, sono anche abbastanza fedeli nelle relazioni sentimentali e affettive, ma sono leali anche nell'amicizia, nelle relazioni lavorative, cioè rispettano i propri impegni. Diciamo che potrebbe essere proprio la caratteristica della moralità. Essere morali significa rispettare i propri impegni, essere leali. Altra caratteristica è la diplomazia. Il Capricorno di solito non cerca lo scontro, se riesce a trovare una soluzione diplomatica la cerca. Diciamo che abbinata alla caratteristica della pazienza, questa caratteristica della capacità di mediare, ne fa, diciamo, un autentico facilitatore, mediatore. Cercano di trovare sempre delle soluzioni, perché sono comunque un segno razionale, un segno pragmatico e non ha logica, razionalità, diciamo, a cercare scontri con le persone. È molto più razionale, pragmatico trovare una, come dire, una soluzione. Altra caratteristica del Capricorno è l'intuizione. Hanno delle buone intuizioni, soprattutto se sono motivati, se sono, diciamo, se gli interessa una certa cosa, mettono energia e quindi tendono a sviluppare anche una capacità intuitiva, una capacità di guardare oltre. E la sesta caratteristica, ovviamente, questo è fondamentale, è la caparbietà, la determinazione, il portare a termine le cose che si sono prefissate. Quindi il Capricorno è testardo, da questo punto di vista, va fino in fondo, non molla la presa, diciamo, come un mastino, fin tanto che non raggiunge il risultato, continua, non si arrende, non demorde, insomma. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Ciao